Dai! Volta la Rasta! Noi non chiedi, non so forse, non so forse, non so forse, non so per maledio, ok? Non so per me, non so per maledio, che ando? Ehi, bene! Mi sono chiesto il burro da guarda dalla lampa? Non c'è il peggio, se no, non c'è la musica, non c'è la musica, non c'è la musica, non c'è la musica! Dai, ragazzi, non so per maledio! Vai, ai ragazzi! Ehi, che musica! con le formazioni che daranno vita alla finale di questo decimo trofeo Mella sono quelle che si sono guadagnate questa mattina la prima posizione nel rispettivo girone ovvero l'Atalanta e il Sassuolo ricordiamo che l'Atalanta è anche il detettore della non edizione del trofeo Mella quindi viene per difendere il titolo il Sassuolo naturalmente a contenderglielo andiamo a conoscere le formazioni partendo dal Sassuolo che gioca in maglia bianca numero 1 Lugli Riccardo il 2 Potenza Michele il 3 Corsini Edoardo il 4 Bottazzi Riccardo il 5 Morselli Alessandro il 6 Crotti Pietro il 7 Cavoli Enrico l'8 Lorenzi David il 9 Iossa Franco il 10 Bernabè Ricchi l'11 Vaccari Riccardo il 12 Meschiari Matteo il 13 Frigieri Riccardo il 14 David Iaseno Zedusi il 15 Ricci Alessandro il 16 Operato Edoardo il 17 Fari il 15 18 Fari Matteo il 19 Caselli il 19 sono allenati dal signor Giovanni Morselli per la formazione invece dell'Atalanta con la maglia tradizionale nerozurra numero 1 Bisoni Angelo il 2 Ieresa Ibrahim il 3 Loculto Michele il 4 Alessandro Marco il 5 Cittadini Giorgio il 6 Parola il 9 7 Martinelli Leonardo 8 Turra Mattia 9 Mengoni Muta 10 Cloti Giorgio 11 Muta 11 Muta 13 Grigieri Sabba 14 Cauda Rashida 15 Paolo Zianic Sanic 16 Pletano Dennis l'allenatore è la signora Giordano Paolo in questo finale questa finale di questa ancora 25 minuti in tempo unico in caso di risultato di un parità a termine di questi 25 minuti si andranno attivi di rigore non è un altro vai eh sei largo giocalo subito vieni vieni subito subito vieni 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 vai Alejo vai oh via sta lì bravo eh prima attaccare il palo vai vai così prenderla dentro qualcuno a chi ti arriva già non complichiamoci dai era la palla vai che è girato l'imperatura giusta per giocare a calci la fatica dei giocatori in campo triplica non solo la doppia quindi se volete voi del pubblico incitarli aiutare che ti arriva fermiamoci vai che sogni è vai inserisci ti in mezzo la lettere eccolo lì tiro va bene l'altra insieme l'Atalanta va molto vicino allora realizza il simone con questa cura che le dice il palo di destra del sassone bravi eh fa bravi aiutarsi ingi l'Atalanta 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 l'Uno uno Leo, non te la dà! Via, fai che lo fai! Dai Flavio! Corcia Simo! Vai a parlare, aiutarsi! Marco! 3! Girati! Salta! Marco! No! Non stare fermo, dai! Dai eh! Ascheb! Ascheb! Bravo! A che salta? Non fermarti, dai! Dai ragazzi! Dai ragazzi! Ehi! Forza! Forza! Urla, fatela dare! Chiamala! Alessandro c'è qui, l'unico qui arriva lì! Porcosio! Ok, facciamo un portrattore! C'è sempre qua lì, però! Eccola! Bravo! Segui, segui, segui che va! Vieni fuori! Ehi! Vai ibra, vai ibra! Bello! Buono! Vai ibra! saltalo! ok scarica è gol ancora un tiro la parte dell'Atalanta nello specchio del barato dal portiere del Sassuolo dai 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 che mi sto facendo dai raga te la dai eh in propondità bravo vai vai uomo mettono subito perché siete sui treni di qua vai dentro vai dentro qualcuno non c'è mai nessuno in mezzo lui è libero la stasca metti che mi lascio uno scotch sei per casa sannata allora è bravo una volta stiamo incontrando stiamo incontrando stiamo incontrando dai che la perdi e Denis dai dai che la perdi che è nostra dai che è nostra dai che è nostra eh dai la bomba lì dai ah di testa la testa qua secondo me secondo me secondo me ci prova stai più dietro perché arriva lì quella lì stai più dietro perché arriva lì quella lì vai via da lui eh dai 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 via via a che ti manda hai hai dai dai a profondità l'Alessandro è un capito ma no lì è nata tutte le volte eh lunga ti la bala ogni baluga da nà ciao vediamo dai guarda l'esterno Viva via vai via viva venite carri dai Giorgio però figlio e non senti la moto non senti la moto a punta grazie Sì dai dai raga meglio Ibra torna dai bravo bravissimo dai 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 eh dai dai vai l'interno vai l'interno Viglia! 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 bravo la tua bravo la tua bravo la tua bravo la tua io capisco un po' il passo che c'è e lui deve sfruttare quelle cose tre, faccia uno schiaccio da ritorno non è così vai, 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 che è mia finita, eh anche perchè sono più venti minuti che hai visto dopo ebra 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 ebra, largati Dai 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 uno e due, dietro dietro in mezzo che bella dai tiro dai dai occhio oh oh capisco guardalo a che ne arriva un altro sono qua bravo bravo Marco orto così si fa ma che bello oh si mette la terra parlate no bisogna dirglielo dai 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 è finito è finito e quanto va? 30 minuti che è in finale è arrivato mezzo guardalo 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 bravo questo andava se no vero è il rigore un po' fuori guarda via guarda via guarda via guarda via guarda via guarda via si incarica il numero due di arresto a Ibrahimo si vede dall'altra parte hai visto chi c'era? hai visto? l'idenese che era riuscita a spuntarla con la costa a Ibra a Ibra bomba via 2 a 0 a Ibra a Ibra a Ibra a Ibra ogni ricazzo portiere della Sassuola non è riuscito a riuscire quindi siamo sulla 2 a 0 per la tonta dai voglio magari come te c'ero io dai 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 Passa qua! Cringi Ibra! Aiutalo ancora Ibra, aiutalo ancora! Bravo Leo! Ancora un'occasione per il Palermo. Bravo Leo! Si tocca fuori dal lato sinistro. Vai Agli! Vai eh! Conti! Andano circa 5 minuti a termine di questa finale. Valevole con il primo e secondo posto della Trofeone, la decima edizione di fronte a Atalanta e Sassuolo. Atalanta con il tempore, in quanto vincitrice dell'ultima edizione. Attualmente sul 2-0. Cosa? 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 Sì! 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 Sì. Sì! 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 Se nessuno mediano si abbassa palestriando, hai due giocate e dietro la palla, hai due giocati e dietro la palla, hai due giocati e dietro la palla, hai due giocati e dietro la palla albicro che è successo bravo, stai vicino dai dai dai, forza fermaci, fermaci siamo a prenderla solo nooo oh vai simbio qua ci sta collegando ha! vai dentro io è più caldita ma è più difficile vai lui, vai vai, vai vai, cambia bravo bello 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 dai 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 che c'è? bravo Yannick tutte le torte vengono fuori col buco le ciambelle alcune vengono fuori col buco e manca uno tutto è buono ma ancora a pizza e tutta la bianca si! grande Yannick grande in Gaza dai dai che già rubiamo bello dai 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 Non c'è un po' di bambino Dice che altre volte Non c'è un po' di genia Vì da domani siamo così Non vengono mai c'è un abituo Non c'è un abituo Tira sotto la blusa Io devo un po' di gel Qua Inghetto la margine Vieni a che entrava? Vai su! Vieni a che entrava? Vai c'è Oh Oh No No Adesso gioca un po' di Non mai gioco avanti Però vedi quando giochiamo dietro Tutti siamo di quelle cazzate Meglio rischio è che giochiamo sempre avanti Non so Non si gioca dietro Sempre meglio avanti No no in generale la squadra C'entra tutti in generale Via Mandalo Aspetta per me Dai dai Vieni dai clara Bravi Vieni Quanto che è finita Questo a te Mi ha detto se l'ha il primo tempo Eccola Vieni